Un grande anello rosso per abbracciare ed esaltare i tanti tesori del centro storico di Rimini. Questo è l'obiettivo dell'anello delle nuove piazze, realizzato negli scorsi mesi dal Comune di Rimini, primo atto di riqualificazione e armonizzazione del cuore della città. Una pavimentazione di cemento rosso porfido e nuovi arredi urbani hanno dato concretezza a questo progetto e per inaugurare il nuovo volto del centro, il Comune ha deciso di organizzare Centro Divino, manifestazione che il prossimo 10 ottobre unirà shopping, musica, enogastronomia e cultura da Piazza Ferrari a Piazza Cavour, passando per la piazzetta San Bernardino. Dalle 17 alle 23, lungo l'anello e per le vie del centro, i commercianti si apriranno all'esterno attraverso l'estensione delle proprie vetrine, dialogando così con i riminesi in modo ancora più diretto, mentre lungo il percorso rosso porfido si posizioneranno i piccoli e grandi produttori agricoli vinicoli selezionati dalla strada dei vini e dei sapori di Rimini e dei comuni della Balmarecchia e della Valconca. Un'occasione per riscoprire anche le vie e i monumenti del centro storico. Il centro storico è di tutti, il centro storico non è di chi abita in centro storico, il centro storico è il luogo da dove è nata Rimini, il car del decumano, le prime strade e così, come dire, dentro quest'idea di città che stiamo sviluppando, oggi rinasce il centro storico con l'anello delle nuove piazze. Un intervento di 4 milioni e mezzo, sono state fatte prima le fogne, sotto servizi e poi un anello nel cuore della città che fa riscoprire delle piastre splendide. Questa è la piastetta San Bernardino, prima qui c'erano lamiere autoparcheggiate, abbandonate, c'era asfalto con le buche, oggi c'è un pesto di storia, di identità, una magnifica piazza che i riminesi quando passeggiano, come dire, quasi si sorprendono di ritrovare la bellezza della propria città. La gente nei posti belli viene a passione, il commercio si libera, è più forte, noi costruiamo un grande centro commerciale naturale, per questo c'è quest'unione oggi tra i commercianti che ci dicono andate avanti, tra i residenti che ci dicono viviamo in un posto più bello. Dentro un'idea di città, mentre facciamo il centro storico stiamo facendo le fogne, fluidifichiamo da Miramare alla Fiera, togliamo tutti i semafori, stiamo investendo sulle rotonde della Statale 16, non c'è solo una parte di città che migliora, cresce, ma c'è un'intera città che cammina e migliora.